Altre notizie A Palazzo Lascaris il 21 marzo è stato presentato un nuovo prodotto informativo, il CRP TG-LIS, dedicato alle persone sorde o con deficit uditivo, realizzato dal Consiglio regionale in accordo con l'Ente Nazionale Sordi del Piemonte, ENS. CRP TG-LIS contiene alcuni servizi giornalistici dedicati alle attività istituzionali e altri eventi dell'istituzione regionale tradotti nella lingua dei segni italiana. È realizzato con periodicità settimanale, caricato su Youtube e reso fruibile con un link sul sito istituzionale www.cr.piemonte.it. Il Consiglio regionale ha inoltre chiesto alle emittenti televisive piemontesi la messa in onda gratuita del CRP TG-LIS come strumento di comunicazione sociale. Questa è un'occasione importante per il Consiglio regionale ENS Piemonte, è questo nuovo TG web in LIS che dà la possibilità alle persone sorde di poter accedere a tutte le informazioni del Consiglio regionale attraverso la lingua dei segni, attraverso la presenza di un interprete ed è importante per tutti i sordi piemontesi. Siamo molto contenti di questo traguardo, siamo qua per preparare questo protocollo di intesa per dare l'avvio ai lavori.